Grazie a tutti Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un nuovo episodio di Tuning 2.0 Oggi andremo a modificare la Issy Classic e ve ne porterò ben due versioni di questa Issy ragazzi Io aspettavo tanto questa auto, voi direte che cazzo è un'auto di merda, costa pure un pacco dei sordi Perché comunque effettivamente costa parecchi soldini ragazzi quest'auto Costa la bellezza di 360.000 dollari per una compatta insomma sono un pochino tanti Io infatti quando ho visto il prezzo ho detto minchia quanto costa, è una compatta, è una macchina così Però poi quando l'ho modificata ragazzi in entrambe le versioni Devo dire che è stata veramente spassuosa, veramente veramente spassuosa Allora in questa prima versione ragazzi andrò a riprodurre un'auto Diciamo che esiste realmente no? Che tutti noi bene o male conosciamo Ed è la versione di Mr. Bean ragazzi La versione dell'auto di Mr. Bean Che comunque ci sono di tantissimi colori C'è verde, c'è rossa, c'è color senape Insomma sto cazzo di Mr. Bean l'ha comprata in tutti i colori possibili e immaginabili Tanto è vero che nelle varie serie l'auto ha preso molti colori insomma Che dire di quest'auto? Ha parecchie modifiche ragazzi Io qui adesso vi sto facendo vedere le modifiche Più o meno quelle che ci sono Però comunque ha parecchie modifiche Ma non andrò a mettere nessuna di queste modifiche ovviamente Essendo l'auto che comunque io la voglio fare un'auto alla Mr. Bean L'auto in pratica resterà diciamo quasi vergine Più o meno vergine Tranne quel tocco che mi aiuterà a renderla simile all'auto di Mr. Bean ragazzi Comunque come dicevo è veramente spassosa Io l'ho guidata e è da sbrago sta macchina Perché c'è una trazione particolare Poi se la comprate lo scoprirete da soli E' veramente particolare Poi vi faccio vedere quando comunque vado a fare Diciamo il cerchio no? Acceleratore e freno Insieme vedete come si comporta l'auto Il colore che ho scelto è questo ragazzi E' un senape Io ci ho messo Ci vado a mettere il perlescente Anzi mi sa che manco ce lo metto perlescente Comunque il colore che ho scelto è questo E' senape E diciamo che è uno dei colori delle auto di Mr. Bean Poi quando avete aperto il video Che nella miniatura diciamo c'era anche l'auto di Mr. Bean originale Le potete mettere a confronto i vari colori insomma Comunque che dire Io l'ho detto è veramente spassosa come auto Certo non è un'auto da comprare Se non avete soldi Ha una cifra di optional ragazzi Veramente veramente tantissimi optional E in quanta velocità non lo so Andrò a testarla Se è magari più veloce di altre compatte Però voglio dire chi è che fa le gare con le compatte Anche se ci sono le gare con le compatte Però la maggior parte di voi ragazzi fa Tutte le gare con super Sportive Tutte queste cazzo di auto Anche se secondo me Il gioco è fatto anche di altre auto Anche di compatte Io personalmente nel mio garage Ho molte auto Tra cui compatte Berline Insomma Ho un'auto per ogni categoria ragazzi E quindi Quando magari vado a fare delle gare Mi trovo le mie auto E posso correre tranquillamente E quindi nulla Poi come ho già detto Andrò a testare la velocità di questa auto Anche se Non credo sia molto molto veloce Rispetto ad altre compatte Però il fatto che è bellissima ragazzi È veramente bellissima come auto Comunque c'è quel movimento strano Come vedete piega tutta da una parte L'auto A me piace veramente Io mi sono innamorato di questa auto È veramente bellina Non per il semplice fatto Che è l'auto di Mr. Bean Perché a me sinceramente Mr. Bean Mi sta pure un po' sui coglioni Perché capitano tutte a lui Però l'auto è bellina In se stessa Io l'ho lasciata così Con Diciamo Base Quasi base Ed è veramente carina Andrò a portare anche una versione Tuning di questa auto Quindi mi raccomando Rimanete connessi sul canale Detto questo Un saluto a tutti Al prossimo video Ciao a tutti